Non frena affatto, viceversa torna a salire in maniera preoccupante la curva dei contagi in provincia di Agrigento e aumentano anche i ricoveri. Ce ne sono stati tre nelle ultime ore. 463 nuovi casi di positività riscontrati sul territorio agrigentino, 176 le persone che sono guarite dal coronavirus. I soggetti ricoverati in totale sono 22, tutti a Ribera, 20 nella medicina covid e due in terapia intensiva. Sale anche il numero degli attuali positivi, adesso sono 2.273 di cui 2.251 in isolamento domiciliare. Impennata di nuovi contagi nella città di Sciacca dove più di 50 nuovi casi hanno fatto salire a 326 il totale dei contagiati. 57 a Ribera, 23 a Sambuca di Sicilia, 60 a Santa Margherita a Belice, 55 a Santo Stefano Quisquina, 21 a Siculiana, 413 ad Agrigento, 9 ai casi a Calamonaci, 13 a Caltabellotta, 168 a Canicattì, 7 a Cattolicare a Clea, 22 a Cianciana, 238 a Favara, 109 a Licata, 2 a Luccasicula, 55 a Menfi, 10 a Montallegro, 24 a Montevago. A livello regionale sono 3.793 nuovi casi di covid registrati oggi in Sicilia a fronte di 20.652 tamponi precessati. Ieri i nuovi positivi erano stati 5.559. Il tasso di positività scende al 18,3%, ieri era al 24,8%. La Sicilia oggi è al sesto posto per numero di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 57.618 con un aumento di 952 unità. I guariti sono 3.803, mentre le vittime sono 7 e portano il totale dei decessi a 11.135. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 652, 9 in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 24, 2 in più. A livello provinciale si registrano a Palermo 1.403 casi, Catania 1.296, Messina 421, Siracusa 395, Trapani 216, Ragusa 327, Caltanissetta 131, Agrigento 348, Enna 225.